un po' la forma che ho fatto è quella che io ero minori per tutti i bici e con il giù nel 2017 e io non ho mai mai visto che erano degli anni che può accacere la situazione particolare che hai chiamato con la sua memoria per chiamarti in nome, come devo fare per questo e quello è che non mi chiamo ancora, non mi chiamo ancora, per favore dai dai non mi chiamo ancora, non mi chiamo ancora, non mi chiamo ancora, perché e non capisco perché non pique un po' di sugo e il mio caso è buonissimo, ma è chiaro che mi sento mai ricordare al mio padre non lo mette, come devo fare, perché ce l'ho dito, perché non mi chiamo oi ai 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 Ugo 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 Oh yeah Oh yeah